prova prova ragazzi uno in chat dovremmo esserci aperta la chat verso i relatori come state allora uno in chat tutti coloro che si stanno tradando la strategia delle news questa settimana e che hanno avuto soddisfazioni oggi ho ricevuto un sacco di messaggi sull'eurocad io ho avuto veramente poco tempo adesso stiamo dal punto di vista aziendale organizzando un sacco di cose quindi il tempo per l'operatività secondaria la mia primaria nasdaq la secondaria inizia ad essere un po più complicata tutto bene tutto bene grazie gabriel come sempre aperta verso i relatori allora ragazzi buttate i q and a tutto ciò che vi viene in mente che poi li andiamo a smarcare vi do qualche minuto per popolare il q and a poi iniziamo allora non c'è bisogno penso che ripeto i criteri principali della della strategia perché l'abbiamo già visto insieme varie volte ne abbiamo parlato in lungo in largo di quanto sia ottimale per coloro che lavorano come sempre è inutile che lo ripeto non sono consigli finanziari è un modo di approcciare i mercati per chi ha poco tempo davide dice oggi stop su usd cad ok hai scelto il dollaro ora andiamo a vedere anche perché il setup di eurocad era migliore rispetto a quello di euro di usd cad quello è un rifinimento che farai con il tempo davide devi devi un attimo capire ingranare questa è la terza live tra l'altro su questa strategia e direi che non ci perdiamo nella parte di teoria e andiamo direttamente nella nella parte pratica ok quindi direi di andare direttamente sul calendario economico nel frattempo vedo che ci sono un bel po di q and day quindi lo vado a smarcare allora quale pensi sia la tua migliore caratteristica aspetta che mi arrivano tantissime quale qual hai trovato nei trader che conosci bella questa domanda allora non è la caratteristica del trader che è lo che lo contraddistingue quanto la capacità che ha il trader di gestire lo stress perché e per quanto si voglia far sembrare il trading il lavoro più bello del mondo è una professione che ti sottopone a periodi di drawdown stress paga tanto ma è una professione che ti mette tanto alla prova dal punto di vista mentale quindi più che caratteristica è un po di resilienza lo vedo in tutte le persone che conosco voi sapete penso che ormai è nata è nata la collaborazione con patrick nillo ormai stiamo sempre insieme lui sta qui adesso negli emirati però sapete chi è insomma una persona che da cinque anni sui campionati mondiali che vince costantemente primo secondo terzo posto sempre in podio performance nettamente sopra la media e dopo un po di chiacchierate con lui vi posso dire che quello che vedo in patrick è la stessa tempra che vedo in jans molen è la stessa tempra che vedo in tom e jonathan è la stessa tempra nella quale mi rispecchio io niku per chi lo conosce insomma tutto il circolo che abbiamo qua negli emirati sono tutte persone che hanno la stessa caratteristica di approccio mentale e che non prendono troppo sul serio il periodo in cui affronta nel drawdown perché devi creare un distacco emotivo con quello che è il risultato economico esatto il breve termine dice poco ragazzi il breve termine dice poco andiamo sulla parte domande e risposte poi xau usd ora vediamo su quale news c'era d'impatto xau usd e urcad top penso che sia alessandro che se l'è preso scritto anche lui mi sono dimenticato di carte la settimana scorsa puoi direttamente condividere i file in cui si parlava di live in a box la strategia appunto sulle news come si crea il range temporale dal quale poi aspettiamo l'uscita con il profile esce un bundle ragazzi esce un bundle gratuito su youtube dove parliamo di tutto questo quindi sì per chi sta arrivando come questa prima live può recuperare tutto ok può recuperare tutto direi che ci siamo un in chat se partiamo perfetto qualcuno che dice soggettiva la cosa allora dipende dipende voi conoscete tomogard chi è che conosce tomogard ex trader jp morgan adesso abbiamo un evento in programma con lui ci ha chiamato ci ha invitato a me andrea appunto discutere di varie cose tra l'altro anche collaborazioni lui viene da un background istituzionale è un high stake trader quindi definito trader con capitali ingenti tanti tanto alti per un retail e lui ha lo stesso approccio mentale lui è proprio specializzato sulla parte di approccio mentale e quindi dico dieci trader che hanno risultati considerevoli che dopo anni e anni sopravvivono sui mercati finanziari che hanno questa come fonte di entrata principale hanno tutti la stessa visione mentale del drawdown allora è effettivamente uno dei tasselli principali ma potrebbe essere che non è così per tutti è un campione statistico ok come mai oggi alle 19 e 30 chiede brian perché stasera non riesco ragazzi una cena e quindi ho dovuto anticipare ho dovuto anticipare ho pensato di fare live su youtube come fa tom è molto rischioso soprattutto se le fai in inglese io adesso sto internazionalizzando e non avete idea di quanto sia aggressiva la cftc hanno dato uno strike a un trader che ha portato un conto da 100.000 a un milione o da un milione a qualcosa hanno dato uno strike aggressivissimo quindi piuttosto uno fa gli stress test e li pubblica far live trading è molto rischioso tanto rischioso soprattutto se lo fai in lingua inglese se lo fai in lingua italiana ancora ancora ti salvi perché la consob è più buona comunque partiamo allora settimana uno in chat si sente si vede calendario economico ci siete perfetto perfetto allora questa settimana lunedì 21 ottobre andiamo subito al pomeriggio che cosa vedete allora conglomerato di news sull'euro conglomerato di news sul dollaro niente di eccessivo notizia due tori su due stelline chiamatele come volete alle 16 alle 19 molto blando di notte le nz di giornata scialba si poteva evitare il trade oggi quindi già voi sapete in pianificazione che lunedì questa strategia non era operativa ok non aveva nessun setup degno di nota a meno che non volete forzarlo ma in quel caso non state seguendo un protocollo operativo martedì lascio la parola a voi andiamo sul pomeriggio che setup vedete scusate non che setup che coppia di asset vedete come potenziale operativa apro la chat igor si quello da cento a un milione e come si chiama con i capelli lunghi ora come viene il nome del creator preso uno strike allucinante dalla cftc multe pesantissime ragazzi multe pesante non ci si gioca con con operatività che può essere copiata in tempo reale se qualcuno riceve un danno sul conto e ti manda uno strike parlo della legge internazionale non quella italiana passi i guai quindi puoi mettere i disclaimer che vuoi ma è sempre rischioso euro dollaro esattamente qui abbiamo l'euro che è il protagonista indiscusso della sessione di new york con una tre tori alle sedici con un discorso della lagarde e poi vediamo tante news sul dollaro tra l'altro sovrapposte alle sedici tre news a un toro una a due tori e poi vediamo che abbiamo anche altre news sul cad diciamo che il cad si poteva accoppiare alle quattordici e trenta con il dollaro che è quello immediatamente successivo quindi per questa giornata scriviamoceli qua potevano venire fuori usd cad euro cad e anche la coppia euro usd ora il numero di news che abbiamo sul cad e l'impatto è uguale al numero di news che abbiamo sul dollaro l'asset che prenderai in considerazione principalmente perché ha le tre tori è l'euro perché ha una tre tori e una due tori immediatamente successiva quindi in questo caso l'asset più sensato sarebbe l'euro dollaro ok l'euro dollaro a iniziare dalle sedici quindi andiamo il ventuno io le sto vedendo per la prima volta con voi ragazzi perché questa settimana non ho avuto assolutamente tempo martedì alle ventidue euro usd allora andiamo lunedì ventidue o martedì che giorno era martedì martedì ventidue alle ore dove siamo qui sedici allora questo è l'orario di rilascio della news quindi ci mettiamo uno bello un bello spartiacque allora che cosa vediamo qua dentro vediamo intanto domanda venivamo da una condizione di trend o venivamo da una condizione di ranging venivamo da una condizione di trend esatto roberto dice auction ribassista quindi come vediamo qua se dobbiamo andare a identificare le strutture precedenti noi avevamo fatto poco prima una rottura direzionale short la quale vedeva l'origine del movimento qua quindi eravamo in quella che viene definita per come ve lo spiego ormai da anni su youtube auction ribassista quindi abbiamo una condizione di struttura ribassista e non siamo in una condizione di compressione come questa condizione qua o come questa condizione qua dentro ma vediamo una condizione direzionale e inizia un pochino di compressione dopo il rilascio della news ok ma il rilascio della news in realtà qua non fa né un lower low e questa è la news del range precedente né un higher high ok non abbiamo niente di rilevante l'unica cosa che si poteva fare in questo caso ma non avviene come catalizzatore della news è provare un reversal ma che fai provi un reversal long se la news non ti è riuscito a fare rottura struttura short e neanche long provi un reversal contro l'auction questo è un trade molto rischioso ci siamo ci siamo esatto questo è come provare a prendere un coltello al volo perché perché sarebbe stato molto interessante se avessimo avuto un breakout sotto news se continuava l'auction era sparare sulla croce rossa prevenduto senza problemi ok e quindi sarebbe molto molto buono il problema è che questa condizione non ce l'abbiamo avuta c'è alessandro che dice non si sente bene l'audio è un problema di alessandro è un problema di tutti perché l'audio è professionale in realtà problema di alessandro perfetto sto con il microfono dovrebbe sentirsi bene elisa dice perfetto tutto a posto ok ora andiamo avanti stesso stessa logica potevamo portarcela sull'euro cad l'euro è il il l'asset indiscusso del 22 perché ha rilasci molto importanti il cad oltre al dollaro è un altro che ha un bel po di news interessanti quindi alle 22 ore 16 che è qua dentro ok qua dentro diciamo condizione che è la medesima perché perché abbiamo pochissimo range in precedenza non abbiamo con la news né un breakout ribassista né un breakout rialzista e di nuovo l'auction come ribassista ok quindi di nuovo c'è qualcuno qua che poteva voler cercare il trade rischioso che dice mi rompe l'auction qua mi prendo il test come mi ha insegnato a fare il problema è uno è che sei contrario rispetto alla struttura generale quindi è sbagliato farlo diciamo che tecnicamente non hai un win rate altissimo ma questo trade se tu cercavi un breakout e un ribilanciamento potevi anche farlo ma allora avresti dovuto prendere anche quello su euro usd non sono trade da strategia e la strategia va a lavorare sulla qualità dei setup quindi se decidi di andare contro struttura e contro tutto ci può stare però non è il massimo ci siamo uno in chat tutto chiaro benissimo ora no questa è una strategia gratuita ragazzi questa è disponibile a tutti su youtube sulla quale poi possono iniziare a lavorare per costruirci conferme ok ci tenevo a regalarla questa qua poi andiamo avanti andiamo alla giornata successiva 23 mercoledì abbiamo qualcosa sul dollaro un conglomerato importante alle 13 però tutte da un toro di impatto ci interessa poco inizia qualche bombetta sul cad programmata qualche bombetta alle 15 e 45 quindi di nuovo mercoledì il cad ci interessa particolarmente ok e oltre al cad ad interessarci particolarmente sono il dollaro e l'euro quindi abbiamo un conglomerato di nuovo su euro dollaro euro cad e dollaro cad vi è chiaro come scelgo gli asset è chiaro a tutti c'è perché questa giornata abbiamo gli occhi su questi tre asset stiamo parlando ragazzi per chi vuole andare a controllarselo di mercoledì 23 ottobre alle ore diciamo 15 e 45 dai perché prendiamo in considerazione la prima serie di news che esce quindi andrei subito a vedere un dollaro cad dollaro cad il 23 ottobre alle 23 e 45 il 23 ottobre alle 15 e 45 oh è questo questo è qualcosa che ci interessa questa è la news ok quindi prima di questo noi andiamo ad analizzare quello che sta succedendo domanda che vi faccio guardate questo e guardate questa condizione veniamo anzi guardate la big picture veniamo da una condizione di asta rialzista o ribassista esattamente come dice roberto come dice davide tutti i concordi siamo in auction rialzista perché perché questa qua è la demanda dalla quale si è originato il movimento il mercato qui non è riuscito a fare una yerai quindi questa è la definizione di range che stiamo prendendo in considerazione non è un mercato in consolidamento ok questo era veramente un bel trade long perché perché come vi ho spiegato quando avete una candela di iniziativa così forte quindi corpo candela deciso che chiude long in direzione dell'auction questo è un trade che si può fare senza nessun problema ok e qualcuno può dire ma è solo un 1 a 2 vi ripeto se associamo un we rate alto a un rischio rendimento anche che non è altissimo la strategia è estremamente profittevole ci siamo tutti su questa logica qua ci siamo tutti su questo trade e allora perché non prendere in considerazione anche sempre il 23 alle 16 le news che abbiamo successive che prendono una serie di rilasci sull'euro dollaro allora sempre il 23 alle 15 e 45 eccolo qua questa è la candela di rilascio questa qui scusate quella prima questa qui è la candela di rilascio sull'euro dollaro allora auction com'è rialzista chiaro a tutti la candela è contraria all'auction ok quindi in questo caso vedete qualche trade cioè siamo contrari rispetto all'auction questa strategia necessita anche della capacità di capire quando stiamo fermi cioè qualcuno si sarebbe preso uno short qua dentro vedendo la condizione della news vedendo un'asta rialzista così guardate anche come pre news già aveva definito una rottura ci siamo mi date uno in chat se è chiaro a tutti in questo caso oro ora del rilascio della news mercato che ritraccia ma siamo in asta rialzista quindi avrebbero avuto molto più senso dei trade a ribilanciamento il problema è che la news non ce la danno qua dentro quindi non abbiamo né il setup a consolidamento questo è il setup a consolidamento con la news che prende direzionalità e decisionalità ci prendiamo il test poi abbiamo il setup a trend ok quindi siamo in struttura in auction a favore mercato che ritraccia e la news riconferma la struttura e allora che facciamo ci copriamo sotto entriamo qua e ce ne andiamo in proiezione vi sono chiare queste due visualizzazioni io le spiego ragazzi più e più volte perché ci tengo che possiate costruire un qualcosa di sensato basato su come si muove il mercato ok quindi purtroppo l'euro dollaro questa giornata non ci dava niente avremmo preso comunque un perfetto take profit su usd cad che era il setup di elezione perché alle 15 e 45 era la prima news importante che ci trovavamo quindi considerando i trade che avevano senso questa settimana abbiamo un take profit che arriva mercoledì su questa strategia che potevate fare se volete win rate alto 1 a 1 se volete un rischio rendimento e un win rate bilanciato 1 a 2 se iniziate ad andare sull'1 a 3 noterete che molte volte vi torna indietro ok però ovviamente potete permettervi il avere di avere un rischio inferiore è uguale guarda ragazzo dice non era alle 16 anche che era alle 16 guarda qua dentro che cosa succede che sei comunque 15 e 45 rilasci sul cad ok se questi sono i rilasci conglomerati del dollaro e dell'euro vedi che allora prima ora non mi fate riprendere il setup sul dollaro cad però che cosa succedeva che noi avevamo un range e la candela decisionale di rottura del piccolo range qua se andiamo a comparare anche l'ultima candela sell con la candela buy di rilascio delle 16 che cosa notate chi è che ha più forza chi è che aggredisce il mercato io confermo che queste logiche di struttura e confluenza mi hanno fatto prendere proprio 20 minuti fa un bello 1 a 3 sul nasdaq sono felice roberto tutto chiaro perfetto ok quindi aggressione short fortissima news è che non riesce neanche a ribilanciare l'ultima candela short capite bene ragazzi che con questo ci facciamo poco se invece mi dicevate attenzione guarda fabio questa candela verde era la candela del rilascio delle news che ti rompe tutto questo range a favore di auction ma qui il trade long me lo prendo subito però dobbiamo attenerci alla strategia se seguiamo un modello non possiamo fare di testa nostra ok e questa cosa vi allena la disciplina perché questa strategia ha pochi setup a settimana 1 2 3 nelle settimane migliori a settimana e quindi se voi tradate poi quello che non c'è effettivamente venite puniti dal mercato e vi crea disciplina vi vado su questa new york che asset abbiamo incrociati qua sterlina ed euro siete d'accordo siete d'accordo euro gbp bravissimo timor abbiamo euro gbp a che ora 1 alle 10 1 alle 10 e 30 iniziamo a guardare l'asset alle 10 euro gbp questo è di giovedì se non erro sì alle ore 10 calcoliamo le ore 10 io non so perché mi rimane lo strumento sempre aperto di disegno allora 24 alle ore 10 eccoci qua allora 24 alle ore 10 questa candela qua ora che cosa succede che noi veniamo da una condizione di range che era prestabilito vedete definizione di range e range ripassista questa candela prova a fare un breakout long ma non riesce riassorbe prova a fare un breakout short non riesce riassorbe l'unica cosa che riesce a fare ma dopo tempo è un breakout long ma com'è questo breakout long com'è l'auction prima della news l'auction prima della news ragazzi se non siete in grado di individuare sta struttura è un problema è totalmente short ok totalmente short quindi questo era un setup contro trend che ti portava anche al rischio rendimento di 1 a 2 ampiamente ti faceva addirittura il gap però non potevi prenderlo ok perché perché se vogliamo essere fiscali la rottura delle week arrivava dal gap quindi era impossibile prendere questo setup ok quindi questo ce lo giocavamo non era nessuna operatività valida e allora possiamo andare alle 14 e 30 che abbiamo una marea di rilasci qua e vediamo protagonisti sterlina e dollaro e quindi pound usd ok pound usd qualcosina sull'euro ma diciamo che indiscusso abbiamo protagonista anche del pomeriggio per la giornata altre tre news a due tori sulla sterlina belle scaglionati quindi pound usd cominciamo con le news a rilascio del dollaro che arrivano alle 14 e 30 e poi arriva subito la sterlina un quarto d'ora dopo quindi pound usd 14 e 30 vediamo se qua ci dà qualcosa quanto è importante la chiusura della candela e del range questa è una lezione guardate qua che cosa succede noi avevamo una definizione di range pre news e un auction che com'era rialzista siamo d'accordo tutti che questo è un auction rialzista quanti di voi con le skill che vi ho insegnato a una chiusura di candela del rilascio della news e quindi delle 14 e 30 sarebbero andati short su questa week ragazzi siamo tutti d'accordo mai auction rialzista ti rifiuta tutto a poco senso ok perché perché la candela di news anche con questi piccoli breakout ti rimane tutta chiusa qua dentro non ci facciamo niente con questo setup vediamo che cosa altra abbiamo abbiamo l'euro bello movimentato quindi euro dollaro con un altro rilascio di news e un conglomerato sull'euro alle 17 possiamo fare euro dollaro alle 16 vediamo se ci dava qualcosa euro dollaro alle 16 e se si formava soprattutto un range che ci può interessare allora euro dollaro alle 16 questo ci interessa questo ci interessa particolarmente ragazzi perché seguite il ragionamento tutto quello che ti ho spiegato della candela questo è il rilascio ok guardate l'entità della candela long dell'euro contro il dollaro e soprattutto confrontatele con le candele precedenti pre rilascio ma un'altra cosa che voglio farvi notare è l'auction come si trovava con questo trade ok io non è che sto parlando di rischi rendimento allucinanti sto parlando semplicemente di prendere un long con il lo stop loss sotto la struttura e un 1 a 2 niente di eccessivo però qui usciva fuori un altro trade spettacolare ecco davide dice io ti pigliari euro dollaro assolutamente sì ci siete ragazzi l'auction qua è chiaro a tutti guardate che breakout strutturale che abbiamo fatto in pre news la news ci dà un'impulsività molto forte long questa volta a favore di struttura questo era un trade ok dove ti copri sotto appunto il range di rilascio e te ne va in swing ok che poi non è swing perché chiudi immediatamente ci siamo tutto chiaro uno in chat perfetto sia a chiusura candela mediamente a chiusura candela se ti dà quello che vuoi vedere altrimenti aspetti se sei chiuso in un range come questo facciamo finta vi spiego anche questa cosa e sei chiuso in un range come questa e la candela di rilascio è questa ok ovviamente ha chiusura candela ok se invece la candela è gigantesca magari ti trovi che ne so 30 40 50 pips magari provi ad aspettare un ritracciamento prendendoti il rischio che non ti filli e e quindi siamo a due take profit per la settimana andiamo a venerdì 25 mattinata un po blanda qualcosina sull'euro qualcosina sull'euro verso le 10 c'è un bel conglomerato di news pomeriggio abbiamo il dollaro di nuovo il cad si può associare l'euro la mattina alle 10 con il dollaro che si muove poco dopo quindi di nuovo euro usd alle ore 10 abbiamo detto questa volta però venerdì igor dice appena chiuso short di oggi su euro usd grande allora alle 10 alle 10 questa candela qua ora io non parlo voglio farvi una domanda questa candela alle 10 qua range struttura precedente con demand precedente abbiamo abbiamo i presupposti per andarcene short su questa candela gabriele scrive immediatamente scartare set up ok scartare set up ora vi faccio una domanda se io vi dicessi dovete allenare la disciplina e la pazienza però portate a casa una strategia con un 70 per cento di win rate 60 per cento di win rate rischio rendimento 1 a 2 quindi fate il vostro profitto l'unica cosa che dovete allenare è il fatto che avete solo due tre set up a settimana perché quelli che non vanno bene dovete scartarli quanti di voi firmerebbero ok quindi il fatto di operare sempre di star sempre a mercato se avete un modello operativo e questo ci sono tantissimi modi di migliorarlo eh questo questo modello ci sono tantissimi modi di migliorarlo io vi ho dato un'infrastruttura ok vi ho dato un'infrastruttura da questa potete lavorarci assolutamente vediamo che cosa avevamo anche oggi pomeriggio un bel dollaro movimentato alle 16 accoppiata un cad anche oggi avevamo un euro un dollaro e un cad ok qualcosa di interessante vediamo quest'ultima news su usd cad o su euro cad alle ore ora ce l'abbiamo il conglomerato sul dollaro 16 si conglomerato più grande alle 16 usd cad alle 16 eccolo qua ora che cosa succede questo è un setup eh range pre news molto definito auction rialzista news che prova a fare un breakout failed auction quindi accumulazione aggressiva qua dentro questo breakout tradabilissimo a favore di asta news che provoca un riassorbimento completo vabbè qua ok spettacolare ragazzi io spero che vi piaccia questa è una settimana da tre setup tra i take profit c'è qualcuno magari che valutava altri setup che si potevano prendere o provava un rischio rendimento più alto dipende da come la gestite magari qualche stock c'era se vi piace questa strategia noi continuiamo anche nelle prossime settimane revisioniamo fino a che non l'ha imparate tutti e poi vediamo 2025 se vogliamo portarci implementazioni perché conosco molti modi che possono migliorare questa strategia e possono renderla ancora più precisa come sempre ragazzi grazie per il supporto vi adoro buon weekend e ci vediamo venerdì prossimo